Ci sdraiamo su pini con una coperta sotto il bacino, pieghiamo tutte e due le gambe sul petto, tratteniamo la gamba destra, distendiamo in alto la gamba sinistra. Ginocchio completamente disteso, piede a martello, distendiamo il piede in flessione plantare e scendiamo con la gamba verso il pavimento. Arrivati sul pavimento, mettiamo il piede a martello e riportiamo la gamba su. Ripetiamo alte tre volte, scendiamo, piede disteso, saliamo, piede a martello, scendiamo, respirando regolarmente, risaliamo, sempre con un movimento regolare. Scendiamo un'ultima volta, piede disteso, respiro regolare, movimento uniforme. Risaliamo col piede a martello, pieghiamo la gamba, la afferriamo, distendiamo l'altra. Ci assicuriamo di avere disteso completamente il ginocchio, piede a martello, poi piede flesso e scendiamo con la gamba verso il pavimento. Quando tocchiamo il pavimento, piede a martello, risaliamo. Ripetiamo ancora. Cerchiamo di mantenere distesa la cervicale, le spalle aperte. Piede a martello, risaliamo. Piede disteso in flessione plantare, scendiamo, respiro regolare, movimento costante. Piede a martello, risaliamo. Un'ultima volta, distendiamo il piede, anche le dita dei piedi, scendiamo. E risaliamo. Piediamo la gamba destra sul petto. Tratteniamo un attimo le gambe. Poi le distendiamo in alto, entrambe, con i piedi a martello, e apriamo tutte e due le gambe in parallelo. Quando sono completamente aperte, ruotiamo i femori e richiudiamo le gambe. La rimettiamo in parallelo. Apriamo lentamente, con un respiro regolare. Un movimento continuo. Arrivati al massimo, ruotiamo, richiudiamo. Ritorniamo in parallelo. Apriamo. Ruotiamo. Riavviciniamo le gambe. Un'ultima volta. Andiamo in parallelo. Apriamo. Ruotiamo i femori in fuori. Chiudiamo. Ripieghiamo le gambe stretto. Appoggiiamo i piedi al pavimento. Togliamo la coperta. Distendiamo le gambe. Riposiamo. Lasciando andare il nostro corpo sul pavimento. Lasciando scorrere le sensazioni dentro di noi.